Il robot da vinci è una evoluzione tecnologica della tecnica laparoscopica, quindi di una tecnica mini-invasiva applicata in interventi chirurgici dagli spazi ristretti, si fa questo dire. E perché questo? Perché nella tecnologia stessa della manipolazione dei ferri chirurgici all'interno dell'addome, dei ferri laparoscopici sostanzialmente, la tecnologia robotica permette di fare sette movimenti, quindi fa più movimenti di quelli che naturalmente la mano del chirurgo su un campo operatorio di chirurgia aperta potrebbe fare. Questo permette la realizzazione in spazi stretti di tecniche chirurgiche di ablazione ma soprattutto di ricostruzione delle strutture. La chirurgia robotica permette al chirurgo una posizione seduta e opera davanti a una console, manipola i ferri attraverso due joystick, ha una pedaliera come vedete nelle immagini per il controllo della coagulazione e del taglio con i pistoli elettrici e quindi di conseguenza permette anche al chirurgo di fare interventi prolungati nel tempo senza eccessiva fatica. L'opportunità nasce dall'utilizzo di questa apparecchiatura che ha sede all'ospedale di Campo Santiero dove da molti anni è attiva una scuola di chirurgia robotica iniziata dal primario chirurgo Trotto Danibale di tanti anni fa. La costituzione della nuova U6 nata dalla fusione dell'ex U15, U16 e U17 all'interno di questa che potremmo definire una grande famiglia ci ha dato la possibilità di avere un utilizzo di questa attrezzatura. Noi veniamo qui una volta alla settimana, sostanzialmente portiamo il paziente alla mattina del giovedì, viene portato in ambulanza da Sant'Antonio qui all'ospedale di Campo Sant'Piero, nel pomeriggio lo operiamo, alla sera viene ricoverato in una stanza della terapia intensiva e alla mattina successiva viene riportato all'ospedale di Sant'Antonio.